Ragazzi bentornati in un nuovo video della Big Vanilla, io come sempre sono il Buddy Oggi abbiamo un'avventura fantastica perché in live abbiamo trovato praticamente una caverna Con dentro un mineshaft con tantissime cose raga da esplorare Ed è qualcosa di fantastico, intanto io ovviamente non ho mai cibo, cioè oddio ce l'ho il cibo però non lo mangio mai Allora Buddy mangia il cibo E niente ragazzi quindi adesso andremo in esplorazione, oggi volevo fare un video un po' di esplorazione Perché sicuramente troveremo qualcosa di bellissimo Prima di andare in esplorazioni volevo far vedere giusto un attimo i progressi che stanno succedendo nelle live Come vedete abbiamo fatto qui le mura che adesso è un po' abbellito Abbiamo fatto il ponte che secondo me raga fa davvero qualcosa di... aiuto devo buttarmi giù per forza Vabbè allora il ponte è davvero davvero bello e basta raga cioè queste cose qui le facciamo in live Poi oltretutto tipo i lama sono diventati 200.000 e guardate soprattutto il bellissimo pistacchio Che bello raga lasciato un like solo per pistacchio Oggi il commento, la parola del giorno sarà pistacchio Basta ho deciso la parola del giorno sarà pistacchio Bene ragazzi allora prendiamo un attimo le cose per andare a esplorare E poi niente ci vediamo quando sono direttamente là in quella miniera perché se no ci vuole una vita da arrivare È praticamente di fianco a casa di Mico fate voi Finalmente vi faccio vedere ho fatto questo avamposto qua in live per cercare di mettere un po' qua le cose insomma che mi servono Per quando sono qui tipo a esplorare o fare robe quindi abbiamo tipo le torce, le luci, i sassi, Babbo Natale, le noci, le cose e tutto il resto Ho anche una meladora nell'inventare ma non vorrei perderla quindi facciamo una roba del genere va così così Lo scudo ce lo teniamo perfetto e andiamo leggermente un attimino a esplorare questo insomma questa questo buco ecco questo questo buco sì esatto questo buco No i ragni schifosi quelli velenosi che schifo ma questi aiuto non mi picchiare ok a posto Ok una chest molto interessante qua dove si va qua si va probabilmente a morire fantastico fantastico c'è un signor creeper E bene così vediamo cosa c'è nella chest ma quanta roba ragazzi qua si piglia tutto qua si piglia tutto qua il buddy piglia tutto non gli interessa Qual il buddy piglia tutto tutte le torce guarda qua tac abbiamo preso un botto di roba raga anche la name tag è utilissima utilissima Sapete che a noi piace il name tag perché dobbiamo dare i nomi ai nostri animaletti Ok raga non so se andare vabbè andiamo di qua andiamo un attimo di qua andiamo un attimo di qua prendiamo ste robe i materiali raga fanno sempre Oh mio dio uno zombie uno zombie no raga fermi tutti non è uno zombie non è uno zombie è un villager Raga abbiamo la mela d'oro ci manca solo la pozione signor zombie vuole mi segua per favore signor zombie lei deve venire con me lo sa Signor zombie è una questione di vita di morte cioè più di morte perché lei è morto vabbè signor zombie lei deve venire assolutamente con me Ma guardi la libero io la voglio portare via da qua io libero anche guardi passi pure di qua non si preoccupi ok andiamo Andiamo signor zombie lei deve venire con me a casa mia perché io adesso ho deciso ragazzi che questa è una missione di salvataggio del signor zombie Signor scheletro e signor creeper guai a voi se esplodete di fianco al signor zombie eh Guai a voi due vi vedo vi vedo voi due vi vedo siete cattivi Eh sapevo io mannaggia me mannaggia eh signor zombie allora lei viene qua di qua così Mi deve seguire però mi deve seguire perché mi sa che questa è una missione di salvataggio molto complicata Venga venga che le libero tutta la strada venga ritorniamo a casa ritorniamo a casa Ragazzi ho bisogno di qualcuno che mi aiuti assolutamente quindi devo chiamare i rinforzi per forza ora Devo chiamare per forza i rinforzi aiuto ciao marci venno male che sei no aspetta un attimo che questo mi picchi è cattivo Aiuta dammi no 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 vieni 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 che sono vicino all'uscita vieni che sono vicino all'uscita dai Marci non posso risalire Marci ormai questo video è Marci ma guarda allora ragazzi voi che vedete la mia visuale cioè potete dire che Marci è un danno veramente ha bloccato tutta la caverna ed è piena di acqua adesso Ascolta non è come passare per me arrivo io arrivo io a sistemare la situazione Grazie Martì grazie sei veramente troppo gentile Questa faccio io no dai Martì sto andando giù un attimo Allora la situazione è un po' delicata c'è un villager zombie che mi vuole uccidere ok ma che voglio portare a casa Ciao Martì questo è mio nuovo ma danno perché c'è lo scudo Puoi salire Martì puoi salire Ma ti sta abbracciando Mi vuole bene lui mi vuole Ma perché attacca solo te e non muoio? No attacca tutti portati no no Marci muoio ci muoio guardate che se muoio impazzisco ho due cuori eh Dai no no non mi picchiare ti prego ti prego Non ti cuoriai? No metà vita metà vita lascia stare Vieni qua No 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 via via Il mio villager Io lo sto spingendo No raga prende il fuoco La luce del sole No spegnilo Spegnilo Ok spegnilo butalo in acqua butalo in acqua Eee come dire vieni qua venga qua Dobbiamo aspettare la notte ragazzi Marci sta arrivando la notte Eh Marci Marci andiamo Ma smetti a tu di farti picchiare dal nostro nuovo amico Allora io la barca se facciamo con la barca ok Ma no che Vabbè tu vai Sì ma insiste proprio non smette di picchiarti Dove devo andare Bella domanda non so neanche io dove devo andare Ma questa cosa è una cavolata La barca dopo quando siamo in acqua Va bene allora portiamocela piede Ma non si può usare un guinzaglio su di lui? Esatto Ce l'hai Marti il guinzaglio? Ma non serve Facciamoci seguire Dov'è casa tua? Me lo dicevate prima Non me lo sono portato Vuoi ricordarmi dove è casa di Nico? E' quello il problema Di qua? Ma il villager ce l'abbiamo ancora o hai perso? Ce l'ho un po' lento però Marti Non ti preoccupare Ok Aspetta provo a mettere Minecraft In italiano e ti dico quella roba di Bardi Vai dimmi ti prego come si chiama No c'è un creeper di fianco No ragazzi non posso Aiuto Aiuto C'è un creeper scheletro No Non so come No Aiuto No 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 Voglio morire Voglio morire Martina sei inutile Allora non potevo colpire il creeper Senza colpire anche il suo mito Adesso sai cosa fai? Vai in caverna Dimmi Ma da dove è uscito quello scusami? Era là dietro mi ha seguito e mi stava uccidendo Ma come? Era l'amico Era l'amico E' il cugino Ci stava cercando La fortuna di Bardi sia la cosa più disarmante La mia fortuna non la tua che ti trovi tutto No perché Ma io stavo mettendo il gioco in italiano Scusami Guarda te tu sei quello fortunato Comunque guarda qua Cioè non lo so io Io vorrei in chat però delle parole per descrivere Martina In chat scusatemi Cominciati Cominciati La Germania Sono abituato Di trovarli fuori capito? Ragazzi stavamo cercando di caricarli sulla barca Perché siamo arrivati a casa di Nico E sono saliti tutti e due sulla stessa barca Dai Marti Non lì Marti No Marti Non lì No cosa devo fare? Non ho capito Non ho capito cosa devo fare? Una posto Guarda l'altro Uno c'è la su Ok visto che c'era su con me Eh Marti Lì c'è la mia spazzatura comunque Beh la tua spazzatura ci sta Vai Marti Portalo via che c'era su con me Lui capito Siamo sicuri che sia di qua Ma è vero Ma no mi sto iniziando a colpire Eh di lì come ti sei Va bene ma ce la fai ad arrivare a casa mia? Eeeh Sì che ce la fai Ti provo? Dai su al massimo scendi un attimo dalla barca Non ti colpisce più Ma ho rotto la barca Come ti ha rotto la barca? Mi è arrivato la barca Ma? Ma non è qua Ma non è qua Ah ecco a casa di Sì sì è qui a casa di Tu sei andato No qua qua Seguitemi per andare a casa mia Venite venite Di qua di qua Seguitemi Intanto c'è Marci che viene colpito No No Mi stai tamponando No sei tu che stai tamponando me No sei tu che stai tamponando Ma quanto danno fa Ma poi perché quello di Martina non è attacca? Ma il mio è pacifico Marti di qua di qua No di qua Vabbè uguale tagliavi Cioè hai fatto la strada più lunga Non lo so io Ah no perché sto andando a casa mia Ma sbagliato Il mio non so perché ha smesso di colpirmi No ha riniziato Mi sta colpendo Mi sta colpendo Mi sta facendo malissimo Ragazzi dai Manca poco a casa Ve lo giuro Venite veloci Veloci Mi sono persa Dov'è casa tua? Marti va a casa tua a destra Marti io sono quasi a casa Eh vabbè ma anch'io Ma Martina dove è? Aglia aglia Arinizzo mi frego Aiutate mi sto morendo Marti devi finir di qua Mi sono persa Dov'è casa tua? Ma come ti sei persa? Mi sono persa Perché non hai più l'armatura? Scusa Si è rotta Tu non me l'hai neanche detto Ma da Marti 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 Ma tranquillo Ce l'ho io Tutte le tue robe Non ti preoccupare Marti Marti vieni qua No scusa Ma io non posso perdere 30 livelli Sto morendo Te l'ho lasciato in mezzo al mare Venite a recuperare da solo Ma come te l'ho lasciato in mezzo Marti sei perso la mia roba E Marti qualcosa Ah ah Ne sono perso pure io Ho perso 30 livelli No non ci credo Allora ragazzi Dovete portarmelo a casa Perché adesso qua Ci sarà una punizione esemplare Per questi villaggi Se lo porti tu Cioè io Guarda Non mi interessa Ho preso la barca Sto arrivando Sono disposto a morire Pur di venire qua Allora Sono di fianco Più o meno Casa mia Marti non è il momento Ne sto già rapendo uno Ce l'ho fatta Però sta arrivando il giorno Dobbiamo fare in fretta Mi sta picchiando Aiuto Aiuto Perché Ma di qua c'è tutta la tua roba Devi venire a prenderla Ma allora No È morto Come è morto? Non c'è più nella barca Marti ci sono io L'ho preso io L'ho preso E l'altro E l'altro c'è la Martina Vado a riprenderla roba Questa puntata Non doveva finire così Ve lo giuro Domanda Posso non morire affogati? No Infatti questo Come no? Ah sì Possono diventare degli affogati Sì quello sì Allora penso che lo stia per diventare Ti prego salvati Non so come fare Marti Ci buttano in casa Per favore Come fai? Le sto colpendo Perché sta negando quello Mi sa che diventano annegato No Ma perché è tutto da finire così? Doveva essere un video tranquillo Ragazzi Siamo riusciti a portarlo a casa Ciao a tutti No 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 Ciao a tutti No non ciao a tutti Io devo dagli un angolino di casa Marcia aiutami Devi scavare dove c'era la cesta segreta L'incastro di dentro Ho deciso Cesta segreta dov'è? Dai lo vedi che è qua Io ho un cuore Io ho due Uno e mezzo Dai scavalà tu Scavalà che tanto Un attimo Un attimo Un attimo Ciò la con me Vai no no Già ti prego Per favore Mi stai seguendo per tutta casa Ho tolto la cesta segreta Vai Devo morire qua dentro Marci tu chiudilo Ok Chiudi 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 No Vai dentro Vabbè Marci adesso andrà a prendere Un altro villager Ragazzi Ce n'è uno qua Ce n'è uno qui Io ce l'ho ancora Marti vieni qua E portalo a casa Dai vieni qua Marci vuoi vedere una cosa bella Mentre Martina arriva Sì ma tu non è Vuoi vedere una cosa bella Tu vuoi vedere Vai fammi vedere una cosa bella Lo zombie villager Un altro Ma dove sei scusami No non affogare Non affogare Marci dove sei Marci dove sei Ce lo io la barca Se vuoi Qua 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 Vieni qua da me Ti prego Venite a me Dove Annega Sono vicino Vai verso turbo Ok e sono qua Ti vedo 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 Sali sulla barca Oh Martina Ma ben tornata Ok vai Vai a casa Di qua Mi sto uccidendo Di qua la strada più veloce Di qua Di qua Di qua Eh bady sono da questa Devo uscire Esci 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 Ok 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 uccidilo Ma come uccidilo Ho capito scusa Pagli la casa Adesso devo uccidere Ok Vieni 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 qua No C'era con me No 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 Torna di qua Torna qua No 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 Sta negando Sta negando Sta negando Ancora la barca No Marci Marci Dobbiamo salvarlo Tiralo su Diventa un drone Do anche questo No ok 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 Aspetta Adesso aspetta Adesso aspetta Adesso aspetta Vai Guarda che è morto Praticamente Te lo dico Siamo così Non lo so mi fanno Con la testa Guarda Ok adesso Guarda qui Non può più uscire Dopo devi salvare tutto Spazzo ti vaddi Ok vai Spaccalo No 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 Spaccalo Spaccalo che c'era con me poi Ok Ok Entriamo dentro Entriamo dentro Ricordi che non puoi colpirlo più No non lo colpisco Ce la fai ad entrare qui Devi entrare qua dentro Dai vieni qua che mi vedi Ce la con i cani Lasciali stare No ma sei riportato Raga Ma cos'è Raga Dove sei Marty Sono arrivata col mio amico Sono qui Sono qui Ragazzi decidetevi Eccomi Dove è Martina Sono qui Sono qui Abbiamo lo stesso problema Il problema è sempre quello Copravvita Allora Marci possiamo fare una cosa Così guarda Sposti Marty Ok Ragazzi abbiamo fatto Dove è fare così Ma qual è il problema Non voglio lo salire in casa Ok Non lo so Ok adesso facciamo così I cani li abbiamo chiusi Sì Adesso No aspetta 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 Aiuto E' un parto sto video raga Levati levati buddy Faccio seguire a me Di qua No segue Martina Non ci posso Martina Martina c'è la con te dai Vieni qua Non vuole passare in mezzo all'acqua Non ci passa Non ci passa Bisogna far così Raga Fallo passare così Ho un'idea Ho un'idea No così passa così passa Vieni Sì campione No Martina Non deve andare in acqua Ma perché c'è la con me Che ne so Le esce dal 6 Esce dal 7 Ok bravo Sì Ok apri 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 Tieni aperto Ma perché no Sono qua Sono qua Dai Ok Martina Martina Togli il pressure schifose No Martina Non lì No dove stai Torni giù Qua 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 Mettiti qua dentro Mettiti qua dentro Appena è lì Esci 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 No Spingilo No Mamma mia ragazzi Mamma mia Mi fanno più lungo Esatto Vai Vai In fondo Dai Martina Per la scienza Esci 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 Oh Fatto Ce l'abbiamo fatta Uno è Sì Ti prego Non tutta casa Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti